Il tempo come categoria narrativa corre lungo tutta la filmografia di Linda Caridi, da ricordi a lacci. Ma tu che rapporto hai con il tempo? Cerchi di dominarlo o a volte te ne senti sopraffatta, quasi ad averne paura? Allora, diciamo che quel tempo ha una relazione molto varia, indefinita, spesso mi trovo impegnata nel presente, a viaggiare nel passato con la testa, cerco di rivivere degli attimi, dei dettagli, dei particolari e molte altre volte proietto nel futuro quello che vorrei, quello che vorrei per me e per gli altri. La ricerca forse che sto facendo, al di là del mio mestiere di attrice ma proprio come essere umano, è quello di provare ad assaporare il presente, che era un tema tra l'altro del film Ricordi, come che hai citato tu, esiste, c'è, qual è, è adesso, è passato, è tra un attimo. Una cosa che sicuramente mi riporta al presente è il respiro, sentire che l'aria entra, che l'aria esce, che stiamo respirando nonostante le mascherine, la stessa aria e questo è una, come dire, categoria di tempo che mi riporta alla condivisione, quindi che mi piace. A proposito di Lacci, il tuo personaggio Lidia è un po' particolare, perché in qualche modo riscrive la grammatica di un attore, poche parole e tantissimi gesti. Com'è andata la preparazione del ruolo e quanto ha giocato il romanzo di Domenico Starnone dal quale il film è tratto? Il romanzo è stato il terreno di partenza per la sceneggiatura, ma anche per la nostra preparazione, per cui ho letto quello prima di presentarmi al provino con Daniele Lucchetti e già dal provino e dalle fasi di lavoro che sono poi venute dopo, con lui e con Elena Burica, abbiamo cercato di portare una delle immagini in particolare che c'erano all'interno del romanzo, che era quello di una primavera, cioè che Lidia portasse freschezza, una finestra aperta all'interno di un mondo relazionale e familiare che invece sembra molto chiuso, stantivo, dove le persone faticano a comunicare. Anche la nudità è simbolo in qualche modo di primavera, no? Sì, di libertà, di primavera, di qualcosa che si apre e non che rimane conchiuso in se stesso, ma che ha il coraggio di fiorire, di venire fuori. Al centro di Lacci ci sono due coppie, più che una coppia, come al centro di Supereroi, un altro film pronto della tua filmografia, c'è una coppia. Qual è secondo te il segreto della longevità in amore? Genovese risponderebbe ai superpoteri, che in realtà sono delle qualità molto umane che abbiamo, che partono dalla cura, penso, forse questa è una mia sintesi più personale, però la cura che prima di tutto bisogna avere per se stessi, perché se siamo felici riusciamo a relazionarci in maniera diversa agli altri, quindi è più facile che potremmo essere felici anche con qualcun altro. Invece, volendo essere maggiormente didascalici, se tu fossi una supereroina, il tuo superpotere quale sarebbe? Ma sai che mi piacerebbe viaggiare nel tempo. E dove andresti? Chi saresti? Mi piacerebbe tornare in qualche società matriarcale del passato e vedere come funzionava all'inverso rispetto al mondo dove siamo cresciuti noi. Beh, potrebbe essere un'alternativa, una valida alternativa a un film in costume, ci hai mai pensato? È vero, hai ragione. Nel frattempo, in bocca al lupo per tutto quello che verrà e buon giffoni. Viva il lupo e grazie mille.